troppe volte in questi anni siamo stati testimoni impotenti di atti di pura inciviltà e senso civico totalmente assente da parte di alcune persone che in barba alle più elementari regole del buonsenso e della decenza hanno trasformato le isole ecologiche nome che già di per sé dovrebbe ispirare a comportamenti ben più etici in vere discariche a cielo aperto lasciando praticamente di tutto dai mobili usati ai materassi ai giocattoli vecchi ma anche materiali speciali come ethernet o materiale di scarto da ristrutturazioni edili questi soggetti dalla scarsa sensibilità ecologica sono stati ribattezzati i furbetti del cassonetto ma ora per loro i tempi si fanno duri dato che da alcuni mesi il comune di fano con l'operazione videocamere ha messo un serio freno a questo fenomeno i dati diffusi questa mattina dai protagonisti di questa operazione aset comune e polizia urbana sono estremamente confortanti confrontando questo periodo con lo stesso dell'anno scorso i conferimenti sbagliati diciamo così sono decisamente crollati importante risultato è stata l'attivazione quest'estate della videosorveglianza nelle isole ecologiche della nostra città e i risultati che abbiamo sono positivi quelli che oggi possiamo presentare sono le telecamere stanno funzionando ci sono multe ci sono sanzioni per cui finalmente chi non rispetta le regole chi sporca chi non fa la differenziata in modo corretto viene sanzionato e anche diciamo così le spese che l'ente deve affrontare insieme alla società per gli interventi di pulizia straordinaria in qualche modo vengono ripagati da chi ha la responsabilità di quelle azioni sono oltre 80 le infrazioni individuate attraverso questo sistema di video foto alcune delle quali anche con risvolti penali compiute da persone che sono state colte sul fatto e immortalate proprio mentre compievano l'insano gesto sì ci sono dei soggetti preposti al controllo per cui il controllo avviene in due modi avviene in via come sempre stato fatto attraverso il controllo da parte degli ispettori ambientali del personale nostro ed avviene anche con il supporto del sistema informatico delle telecamere ambientali e i vari filmati vengono verificati le varie situazioni degne di di attenzione vengono valutate e ovviamente poi si procede anche le verbalizzazioni così come poi la norma prevede da tenere presente che abbiamo rilevato anche delle situazioni che hanno un tipo penale per le quali ovviamente abbiamo delle indagini in corso e stiamo procedendo il dato espresso va inteso anche in senso non solo punitivo verso chi commette una infrazione ma anche di rispetto dell'intera collettività dato che una raccolta differenziata ben fatta ha ripercussioni economiche positive in termini di riduzione dell'ecotassa su tutta la cittadinanza metodiche chiaramente supportate da una tecnologia valida e innovativa che hanno visto nella sinergia tra comune quindi ente comunale della città e azienda sul territorio per i servizi e anche di igiene ambientale una collaborazione fattiva e che ha avuto ottimi risultati devo dire che partiamo da una base ottima perché comunque la città di Fano ha dei risultati di raccolta differenziata importante e un livello di educazione alla raccolta sicuramente più elevata rispetto ad altri territori